Sulla questione dell'anticorruzione prosegue il botta e risposta tra il Movimento 5 Stelle e il Sindaco Alessandrini. Voi non siete soddisfatti delle risposte avute dal primo cittadino, perché? Il tema dell'anticorruzione e della trasparenza è fondamentale, questa amministrazione non sta facendo nulla, non ha fatto nulla. Basti pensare che nel piano della trasparenza si parlava di una giornata della trasparenza in cui tutti i cittadini sarebbero dovuti essere informati dell'attività che viene svolta e non si è mai fatta. Quindi noi andiamo avanti e chiediamo anche al Sindaco di rispondere ad altri quesiti. Parla addirittura di coinvolgimento dei dirigenti affermando che è stata fatta una commissione. Quella commissione è stata fatta grazie a noi e mancano ancora moltissime informazioni delle quali comunque questa battaglia che porteremo avanti lui sarà costretto a rispondere a noi e alla cittadinanza. A proposito di trasparenza, voi chiedete anche che le commissioni comunali siano diffuse attraverso lo streaming. Perché? Sì, presenteremo infatti un ordine del giorno proprio in Consiglio Comunale per chiedere lo streaming nelle commissioni e la massima trasparenza. Perché paradossalmente si è verificato proprio ieri in una commissione in cui si discuteva di anticorruzione e di trasparenza un problema di trasparenza. Cioè un verbale che riportava delle informazioni estremamente lacunose rispetto alle mie affermazioni e le affermazioni anche della responsabile dell'ufficio di prevenzione corruzione. E noi abbiamo chiesto invece che il verbale venga compilato nella sua complessità. Pare che ci sia addirittura un audio di questa commissione al quale io ho chiesto l'accesso ma mi è stato negato dalla presidente della commissione. Quindi a questo punto, visto che questa amministrazione non riesce a lavorare in trasparenza, noi chiederemo e imporremo che questo avvenga.